Guardatelo! Che cos'è? Un miraggio o pubblicità semi-occulta? E chi se ne importa? Come tutti quei prodotti a pratico di massi! Acqua, acqua pianta in monte, sempre fresca della fonte! È stata buona idea. Cos? Il pubblico se l'aspetta, non ci fa più neanche caso ormai. La ricaricabile costa la metà. Basta, Vodafone! La bellezza ha un gusto. Nuova OVS, dove le mogli ridiventano fidanzate. OVS, l'era del consumatore intelligente. Nascono i nuovi yogurt, yomo, frutta e verdura. Come fragole e pomodoro. Insieme in uno yogurt magro con solo latte italiano per darti il massimo del gusto e temperarsi. Nuovi yomo, frutta e verdura. Con yomo c'è del buono ogni giorno. Hai mai pensato che quando ti senti in forma non hai paura di mostrare il tuo corpo? Giorno dopo giorno, Acqua Vita Snella aiuta il tuo corpo a eliminare quello che non serve e ti senti più in forma. Acqua Vita Snella, l'acqua che elimina l'acqua. E da Vita Snella il nuovo tè con vitamine, magnesio e una sola caloria. Bevande Vita Snella, elette prodotto dell'anno. Svegliarsi in una casa tutta tua è meglio. Per questo c'è intesa vuoto un 95. Tu metti il 5%, noi mettiamo il resto. Manca intesa. Se è meglio per te, è meglio per noi. Biscotti rostici con grano saraceno e zucchero di galla. Il gusto degli ingredienti autentici. Molinetti, molino bianco. Scegli un mondo genomino. OGM. Plasmon ha scelto di non utilizzare OGM neppure nei mangimi degli animali. Così lui cresce sano e tu sei più sicura. Plasmon. Il tè più pregiato attraversa il mondo intero per incontrare l'acqua vera. Acqua leggera, equilibrata. Così nasce bel tè. Il tè freddo del gusto leggero. Leggero come l'acqua. Buono come bel tè. Strepitoso da Euronics. Notebook Toshiba. Solo 899 euro. TV al plasma panasomica. 1499 euro. I bagi ottobre 2007. Corri da Euronics. Miller presenza. Una bella sorpresa. Il 30% di frutte in più. Nuova crema di yogurt con il 30% di frutte in più. Miller, fate l'amore con il sapore. Arriva M3 Power Nitro. Da oggi con un nuovo look ancora più deciso. Aziona il motore. Le micropulsazioni vengono trasmesse alle luce. Lame Power Glide. Senti la potenza di una rasatura incredibilmente profonda e confortevole. M3 Power Nitro. Da Gillette. Mettete da parte la timidezza. Fatevi coraggio. E affrontate lo studio. Possono scendere nell'arena di Se Sbagli Timor. Cinque coppie in gara. Da cui escerà una sola vincente. Metà della coppia è famosa. Ma l'altra metà non ha mai sentito un applauso forte come questo. Monica Leipredi e Gabriele Cilini convincono se sbagli ti mollo. Ma te direi, uno, rai due. Ma che mollo è? Ma... Un uomo dal passato torbido. Che fai qui? Scegliamo. Come il futuro di quel coniglio. Metterò il coniglio. L'amore, la passione, l'intrigo. Si fa presto a dire... Girl, Tony. Ci casca da sempre. C'è un solo. Roger Rabbit. Ma no, come è il bello? Quattro premiosca per il classico dei classici. Ma ce n'è un altro come quello. Chi ha incastrato Roger Rabbit? Nessuno riesce a incastrarlo Roger Rabbit. Gentile la Walmart. Adesso queste bibite Walmart solo perché abbiamo nominato la Walmart diverse volte. Dov'è, Joseph? Hai in senso! Voglio il tuo rapporto. Capo, non è stata colpa mia ma di quella natra stannazza annazza di quel po' soldi di ricerito che ficca naso di tasti tezzel. Una giustificazione molto sensata. Grazie!